Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora chi ha buona memoria si ricorderà che cinque anni fa furono i 5 Stelle a dare il via libera alla von der Leyen, alla quale mancava una manciata di voti e questi 15 voti che mancavano alla von der Leyen per essere eletta gli furono dati appunto dal Movimento 5 Stelle. Questa volta invece di nuovo in una situazione molto molto analoga è in atto una febbrile trattativa tra fratelli d'Italia e l'entourage della von der Leyen e quindi potrebbe essere la Meloni a dare il via alla von der Leyen per essere rieletta presidente capo dell'Unione europea. È un fatto grave, un fatto grave perché dobbiamo sempre ricordarci che la von der Leyen è uno dei pezzi forti voglio dire del sistema. Gli Stati Uniti contano molto in Europa sulla politica della von der Leyen che è chiaramente orientata a perseguire in tutto e per tutto quelle che sono le strategie dei democratici americani. Ora io mi rivolgo agli amici di Fratelli d'Italia che hanno eletto nel nostro paese circa poco meno di due anni fa la Meloni che insomma a questo punto però dovrebbero anche iniziare a pensare che non si può far passare tutto a Giorgia Meloni. Cioè io sono sempre stato sostenitore del fatto che per carità meglio Meloni che Schlein però voi capite che quando per quanto riguarda la politica interna il piatto piange nel senso che gli italiani hanno ricevuto elemosine in questi due anni non ci sono stati aumenti degli stipendi come sarebbe stato giusto vista la crisi che stiamo attraversando, l'inflazione che ha subito anche l'Italia visto il fatto che da 30 anni che questi stipendi sono fermi al palo, non parliamo poi anche di pensionati ma di tante altre cose che riguardano la vita in generale degli italiani. Ecco mettendo poi insieme il fatto che a livello europeo la von der Leyen rappresenta quello che vi ho appena descritto io faccio fatica a capire come si possa continuare a sostenere questa politica della Meloni sia interna ma anche dal punto di vista internazionale. Ci potremmo poi mettere tante altre cose come l'immigrazione che sicuramente questo pertessa a missione della Meloni non ha raggiunto i risultati che loro si erano prefissati. Ora arriva questa notizia, questa possibilità appunto che il via libera venga data dalla von der Leyen esattamente dal gruppo di Fratelli d'Italia e quindi dalla Meloni. Questo purtroppo ripeto è un fatto triste, è un fatto che secondo me non è accettabile e quindi la voce del suo stesso popolo che l'ha eletta dovrebbe farsi sentire perché è totalmente sbagliato secondo me accettare qualsiasi scelta da parte anche della propria parte politica senza mai ribellarsi, senza mai fare opposizione alle scelte del partito che ci è ideologicamente più vicino ma che secondo me sta sbagliando totalmente nella sua politica estera in questo caso e non solo. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.